Alex Belli nei guai per Signorini. È guerra aperta tra il conduttore e l'attore di Cento Vetrine. Facciamo chiarezza su questa ingarbugliata vicenda. Non scorre buon sangue, attualmente, tra Alex Belli e Alfonso Signorini. Dopo l'ultimo scontro avvenuto nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello VIP 6, i rapporti tra l'ex attore di Cento Vetrine e l'amatissimo presentatore si sono completamente disintegrati. Belli è stato protagonista anche della ultima puntata del famoso reality di Cinecittà, invitato dal presentatore a parlare ancora una volta di questo triangolo amoroso, che lui ha costruito con la moglie Delia Duran e la geffina Soleil Sorge. La situazione però è sfuggita di mano e in studio, davanti a tutti. È scoppiata una furiosa discussione tra Signorini e Belli. L'ex geffino si è alzato e ha lasciato uno studio. Intanto, non arrivano buone nuove per l'ex attore che potrebbe essere punito da Alfonso Signorini con un esilio mediatico. Dopo la pessima figura fatta in diretta tv, l'ex geffino ha deciso di lasciare l'Italia e partire. Insieme all'amico Alessandro Filippi con il quale lavora, si è rifugiato a Sharm El Sheikh in Egitto. Non sappiamo quanto tempo rimarrà fuori dall'Italia e se venerdì sarà presente in puntata, ma a quanto pare. I rapporti con Signorini si sono ormai completamente sgretolati e con ogni probabilità Alex sarà fatto fuori dalla trasmissione. Sui social intanto è scoppiato un vero e proprio putiferio. La lite accaduta tra l'ex geffino e il conduttore è rimbalzata tra le prime tendenze su Twitter e in molti. Ironicamente, hanno dichiarato che dopo questo accaduto e dopo aver messo like ha un commento pungente nei confronti del conduttore. Belli sarà costretto a restituire tutti i soldi guadagnati al grande fratello fino ad ora. Che cosa ne sarà ora di Alex Belli? Alfonso Signorini mostrerà a Delia e a Soleil la sua fuga dall'Italia? Scrivetelo nei commenti!